La vedo un'iniziativa molto utile, grazie all'impegno del sindaco che penso si è dovuto dibattere a molto per arrivare a ciò. Siamo un pochino invasi da vari tipi di virus, confidiamo di vaccinarci presto e di arrivare a una soluzione. Purtroppo ce l'aspettavamo perché erano diversi giorni che ci stanno dicendo che questi contagi aumentano. Io lavoro qui a Chiusi e con tutte le persone con cui sono stato a contatto mi viene quasi il dubbio. Quindi sono qui per fare il tampone, proprio per scongiurare il peggio. Adesione di massa agli screening voluti dalla regione toscana, territori sicuri nel comune di Chiusi. Qui sono state scoperte due varianti del Covid molto pericolose e contagiose, la variante brasiliana e quella sudafricana. Le varianti spaventano perché secondo le fac che sono state pubblicate dall'Istituto Superiore della Sanità sono varianti che sono ad alta contagiosità e che non abbiamo evidenza ancora chiara dell'eventuale efficacia sul vaccino. Per cui stando alle indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità al quale noi ci riferiamo dobbiamo mettere in campo ogni elemento di protezione per la nostra comunità ed essere in questo momento avamposto per la Toscana e per l'Italia perché in questo momento noi dobbiamo proteggere tutto il nostro territorio, tutte le nostre comunità non solo i Chiusi, dall'avanzata delle varianti perché rischiano di essere più pericolose del virus originario. Questa è la prima iniziativa in cui oltre 5.000 cittadini hanno partecipato ai tamponi molecolari organizzati in 48 ore qua nella nostra piazza centrale di Chiusi Scalo nel quale stiamo dando un servizio di carattere pubblico ovviamente e portiamo l'elemento probabilmente del più alto valore della sanità pubblica. Tamponi molecolari gratuiti per tutti nel momento in cui è stata evidenziata la variante brasiliana e sudafricana nella nostra comunità.